Incontro con l'autore è il titolo del progetto in cui sono stati coinvolti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo nel corso della settimana. Un progetto che pone attenzione sull'importanza dei libri e sul confronto diretto su tematiche specifiche che gli studenti possono affrontare in modo trasversale alla didattica tradizionale. Un incontro importante, una settimana importante dedicata alla lettura, alla promozione della lettura e oggi questo terzo incontro con un autore speciale che tutti abbiamo conosciuto come magistrato durante il maxiprocesso, come presidente del Senato e adesso in un ruolo inedito ma importantissimo per le scuole in quanto si presenta come educatore alla legalità attraverso i suoi iscritti. Stamattina i ragazzi hanno avuto modo di incontrare e confrontarsi con l'autore del libro Il mio amico Giovanni Pietro Grasso, già magistrato, presidente del Senato e presidente supplente della Repubblica Italiana. Grasso, che nella sua carriera professionale vanta anche la nomina procuratore nazionale antimafia, ha parlato oggi di legalità, veicolando il messaggio attraverso uno dei suoi libri e l'amicizia nata con il giudice Giovanni Falcone. L'amicizia è un sentimento molto bello e quindi riempie anche la vita, la solidarietà, avere un amico è veramente come si dice avere un tesoro e io penso che questo possa essere utile anche illustrarlo ai ragazzi. Attraverso l'amicizia ha veicolato un messaggio molto importante che è quello della lotta alla mafia. Sì e soprattutto per i ragazzi la legalità che è la base perché la mafia produce diseguaglianze, negazione dei diritti. Siccome i giovani hanno la voglia di cambiare il mondo, di reagire alle ingiustizie, alle prevaricazioni, alle pressioni e quant'altro, io penso che sia il modo migliore per costruire un futuro migliore per i giovani e per il nostro paese. Al giorno d'oggi credo che parlare di un argomento come la legalità sia importantissimo e fondamentale per formare noi giovani e adulti del futuro. Penso che i crimini commessi dalla mafia non siano in nessun modo giustificabili, sia importante conoscerli per saper reagire in futuro e anche in presente, per evitare che quello che è successo prima non si ripeta. Ti è piaciuto il libro? Sì, l'abbiamo letto insieme ai miei compagni, anche a casa l'abbiamo letto ed è un libro davvero molto bello. Qual è la parte che ti ha colpito di più? La parte che mi ha colpito di più è stata di più l'inizio del libro perché lui appunto presenta questo libro, la sua amicizia con Giovanni Falcone. L'incontro di oggi è stato reso possibile grazie alla Demea, un'associazione che cura eventi culturali all'interno delle scuole e che ponda a creare una rete tra gli studenti delle diverse zone d'Italia. Noi che andiamo in tante scuole in tutto il territorio nazionale e non solo, come ha sentito dire, anche dalla preside, ci permette di mettere insieme delle scuole e poi riunirle magari in una ambientazione unica, in una location che loro di volta in volta possono decidere e quindi nasce tra le scuole una certa corrispondenza che ci permette effettivamente di far sì che i ragazzi conoscono delle realtà e dei luoghi inimmaginabili.